no 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 cosa hai iniziato il video si presentati sei tu sei cazzo mi d'accordo bella rega squintu cammen e torniamo qua con minaca minecraft si dice meglio ovvero quinto quando il terreno di candor macet hai 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 sia l'esercito dottor cpa cpa a non mi spaventare ero è presente quando ci ha attaccato con il primo fratto non c'è avevo un dici che ho passato e un dici internet luna canzoni si può evidentemente la canzone a pensare per il tuo posto scuola per vita di cazzo uomo dislessico scuola per il tutto 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 scuola spostati in un sito per le scale a meno che non c'è una caverna che vita di merda yeeeh questa casa è vita ahhh finita fatta fatta è dislessica pur la casa che è successo? storta te ne frega ma non è che creeper hai delle case? hai delle scale? hai delle scale? si e dentro la cassa ce ne dovrebbe essere una quale cassa? questa cassa? la cassa che so sotto ah tu una? ma allora si è una porca puttana ma fa fa pulo shalalahi 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 no cassa c'è uno che entrato in partita nooo nooo ok dai in fronte non ci vengono disturbare mi distrusse la casa e la guerra ma non è in testa anche sta canzone mannaggia che non è la canzone? è la guerra più totale ok allora se vieni qua ti do ti do due scale mangia 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 s anna anna ciao ciao che vita di merda attacchi perchè essi che posiziono un blocco lì la gente mi mette là è la guerra totale ok i montoni di mare sono strani ti salutano per il punto di vista ciao piccola che cazzo sta seguendo ah ah che stile che c'è quella scala si che stai rosicchialo dentro la mia testa e detto gimme 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 gomme stata la pia ora è stata molto di mare ah moriremo tutti moriremo tutti buona 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 e la guerra più tutto whataf ragazzi guardate quanto è facile rompere un cazzutissimo albero oh 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 per mega giga oh olee si eee eeeh vai cosi stai sti cazzo ti arbusti che ti fa un fastidio la oh 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 ho finito la mia opera d'arte è finii la fuori sembra tipo la casa di cappuccetto rosso vabbè ma dentro con la differenza che dentro non c'è il lupo nella nonna nella nonna nella zia nel cugino lui il gatto e di io il lupo siamo in società sai che è un po' storpa storpa storpia eric tipo buonga cisa di stati a cittadini posto il posto montato azzardarà toccata dp togliere stati la pietra foto e te in freddo stafile mi non ha così stavo minacciando un'arco di serma se non c'è le frecce non puoi far molto posso fare questo e con un fatto brutto no oggi un clip di seo e il cd scena buona 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 pace pace faccia faccia il patato profumato e via anche il capo questo momento con le anni un'altra ho dimenticato un pezzo tanto 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 me ne ho fatto un caso perché tanti che non hanno stai facendo alla mia casa fidati di me affetti anche dopo viene dritta guarda guarda dimostra non è dritta fa schifo è più storto di prima ma che cazzo dici non di che cazzo guarda quella cantina è una merda che cazzo ti aiuti a scuola ti aiuti a scuola cazzo di monoplegic vabbè in senso che non puoi schifare io la stavo facendo benissimo toglia la cantina così la faccia andritta se toglia la cantina la faccia andritta ma se toglia la cantina devo rifare tutto dai no 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 torna dritta se se tu ripeti un po' della cantina no no ci metto una vita riparla no no non ci metti niente pietima non ci metti niente parte destra deve riparla mi lascio poi se sei pulito guarda che stile che c'è già ma fa culo scusa ma usare semplicemente i blocchi di legno piuttosto usare l'operuta perché non avevo i blocchi di legno ecco penso a questo vabbè giusto va bene oh sentino lo gioco ok è ancora seguito da qui sotto lui è il gatto io l'altro gatto andiamo a un minzo non sta tramontando il sole si prevede un'altra notte di buio pesto aiutare che cazzo cosa i need a door i need a door che cazzo what 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 non lui è il gatto in una volta si è anche le mesi test e la merda non ha fatto niente dai su veloci che notte dai che qui c'entra qui per il mostro in mezzo il nostro ok è dritta ora la carta di scherzi su ma è dritta te lo giuro le prezzo no cazzo ora ora non posso più mettere la nostra test o un fungo ti serve un fungo do perchè 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 niente perchè se ne ha partizzato no ma cazzo la cesta non c'è un po' e mezzo in meronido la sposti di là ma perchè c'è un punto perchè c'è un po no se ne è stato qui per farlo il buco attacco con i biscotti non si può fare con i biscotti comunque per tutto caso comunque per tutto caso allora so perchè perchè mi è caduta la sabbia su tutti i piedi perchè io ti vuole male cosa risposta di no 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 ma che cosa cazzo stai facendo faccio un tetto per il nostro buco così a me non c'è niente ogni volta ok ok numeri numeri tino ti puoi piedi da a il servito a qualche mostriciattolo vuole fare il culo il culo il culatello ma perchè qui c'è sempre ma è vero che si chiama il culatello di zii bello sì il culatello di zii toni no no di zii bello no di zii toni no di zii bello per il culo per il culo no no si chiama di zii bello va bene davvero eh mi so se si dà ragione ragione l'uomo 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 il culatello di zii bello ma perchè un cosa il posto di me ce la fai a farla caso no dai su veloci per casa si inutile cazzo butta roba lì perchè di posto allora mi chiamo dentro di ciare di cui non so che cazzo me ne faccio tutto questo tutto ma cazzo mi ciò mi ciò una una minfer minfer ho due mele ho due mele cinque mele se tu ce n'è due io ce n'ho due quanto fado più due ma si o no 10.000 sei stato bucciato da oh peta per il punto quattro 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 un bel absurdo il caldo city che mantano non i suon allo rarola la bb inf il valentino a live non anche il piano per indire l'intero l'orto è lucidale sei città e per il pubblico no ho finito la casa e tu no ho prendo l'infei e tu no come se fossero bestie selvagge, oh cazzo un creeper oddio che paura gesù giuseppe mariali sta venendo verso di me non venire verso qua ma sai che io c'ho l'opzione scelta scusa qualcuno, cosa stai facendo sta venendo verso me, forse stavo scappando forse io non ti puoi fidare cazzo è sempre più vicino è la casa di essere semidritto, segni esplodi stronzo cazzo un altro creeper è sempre verso di testa è rimasto un altro creeper no, è impossibile che mira che c'è ragazzi ma è in fondo e l'ho ucciso ah 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 se faccio figlio amare ha a ammorto amiglio pour vous club per presenza il mini s sp perché si era un figlio emiglio fammi favore guarda sotto e vedi che che sono dei nomi mette che sa che cazzo sono sotto voi come sono due mob ok quanti minuti siamo credo che abbiamo già raggiunto 15 minuti ahahah bcd hai della roccia si tenga signora in questo contorno di minfei tipo da tipo o santi del island si voglia far video con tutto cosa 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 allora siamo messi molto bene di stare molto calmo tronco il posto tra 5 minuti no non qui vicino agli agli essi fatti un figlio lo chiamo il micchio non è chiaro micchio però le fede ma ti immaginare un figlio che farà carriera della politica ti immaginare un figlio che si muove allele mora tante mi buco le aliche tante puzza fa 2 c alle 2 domani 2 20 un buco sotto casa perchè 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 non è che la domani c'è sempre sono la per andare a vedere la parte non è 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 allora mori ferisci le mille sofferenze dell'inferno feste vesti informi che tu sei redondo bel in acoso sostanzialmente che cosa ca se il tempo che c'è un po' bobo colpo l'arrivo facciamo a bamboni bobo bobo a rinnovare il lavoro riscaldano l'arrivo perché credo che impendente usa l'interno e così tipo dati di alambiente ma è che non voglio c'è buono 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 un piscopo internazionale un po' di bocco solo 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 con questo trovare la parola quindi continuo a dire mostro 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 questo re che ancora è veramente impenetrami non c'erano mai a far saltare la casa e tra finita la casa dentro portasi dentro me no bello bello anche fuori e decente e smoncheggia come te per l'altronde ehi ma secondo me tu sei un po' razzista per cosa stai facendo perchè dimmi che tu va al Ponte di Brooklyn dai vieni qua che salutiamo tutti di cosa Ponte di Brooklyn vieni qua salutiamo dai allora la casa è finita si vogliamo mission complete dai sapieni dalla Casa Bianca secondo me arriva Obama che cosa stai facendo tieni te le regalo tutto dai dai vieni qua troppo bene niente questa era insomma la nostra casa è finita quindi vieni qua e inquadrami mentre c'ho la casa dietro appunto sta roba ok no 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 stai così dai perfetto bella rega questa è la nostra casetta che fa abbastanza schifo per quanto possa essere se sei girato così non ti vede cioè no beh tornami ma oh oh lo sto dicendo ok mi hai travagliato per i due ok stavo dicendo la c'è uno scheletro quindi diciamo avrei che se non ci inculano questa è la nostra casetta l'abbiamo finita l'abbiamo finita ciao ciao ciao